Recentemente ho avuto dei problemi con GeForce Experience, in particolare in seguito all'aggiornamento 3.3 se non sbaglio. Cosa succedeva? In gioco mi accorgevo che la mia funzione GeForce Experience era stata disabilitata, quindi non potevo più fare i replay, non potevo più registrare e non potevo più fare gli screenshot. Solitamente la prassi è sempre la stessa. Il pannello di GeForce Experience si apre, quindi premo Alt più Z e si apre. fuori dal gioco, quindi sul desktop magari funziona, viene attivata, ma nel momento in cui apro il gioco si disabilitava automaticamente. E allora mi informo, leggo, vedo video, visito forum, spulcio le impostazioni di Nvidia per assicurarmi che sia tutto ok, ma ancora il mio Nvidia GeForce non funziona. GeForce Experience non funziona, voleva rispondere. E poi, grazie anche all'aiuto del mio moderatore root, sono riuscito a venirne a capo momentaneamente, quindi potrebbe essere una soluzione anche per voi. Cosa facciamo? Chiudete tutto, si riporta da zero, andate su Start e cercate Servizi. Scendete giù e cercate fino a Nvidia. Ora, io ho due servizi, voi potreste averne anche un altro. Potreste ritrovarvi anche Nvidia Share. In quel caso, applicate questo procedimento pure a quello. Cosa ho fatto? Destro, riavvie. Prima uno. Destro, riavvie. Vi ho fatto anche il secondo. In caso, ripeto, abbiate anche Nvidia Share, fatelo pure per quello, perché ovviamente sono le funzioni principali di GeForce Experience, quindi Instant Replay, registrazione e così via. Ora, avviamo il gioco e vi accorgerete che in realtà a questo punto funziona. Io ho avuto un po' di problemi per l'overlay. Si sono sovrapposti la registrazione di OBS, l'overlay di Nvidia e il gioco stesso di Modern Warfare che, diciamocelo, francamente non è una piuma. Però, una volta entrate in game, riattivate Alt più Z, attivate la funzione Instant Replay o provate a registrare che accorgerete che partirà tranquillamente. Teoricamente, per tutta quella sessione di gioco, fin quando quindi non chiudete il programma, probabilmente anche fino a quando non spegnerete il computer. Ciononostante, questa azione potrebbe dover essere ripetuta altre volte, quindi in futuro, se riaprite il gioco e vedete che non è attiva, io vi consiglio di andare prima su Servizi, riavviare e poi aprire il gioco. Ad ogni modo, questa era la mia soluzione momentanea, spero che sia un buon cerotto momentaneo, fino a quando Nvidia, prima o poi, si spera, fixerà questo problema anche sugli update a venire.